Musica Lega Pro il Gubbio cede 3 a 1 alle Tardini di Parma, scivola al decimo posto del girone B Questa sera torna fuori gioco alle 21 su TRG, ospiti Mister Maggi e il DS Pannacci Serie B, il Perugia sbanca Pisa ed è terzo Serie D, prima vittoria stagionale per il Foligno che regola 1 a 0 Muravera Città di Castello, disco rosso a Rieti per il Volley Superlega, terza sconfitta filata per Sir Perugia Rimontata 3 a 2 a Civitanova Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva Apertura dedicata alla Lega Pro il Gubbio, reduce dalla sconfitta per 3 a 1 al Tardini di Parma La seconda consecutiva oltre che la prima in trasferta per la compagine rosso-blu Gubbio in vantaggio dopo 7 minuti con Ferretti ma il Parma impatta prima al 18esimo del primo tempo Complice la sfortunata autorete di Burzigotti Completando poi la rimonta ad inizio ripresa con due reti in 3 minuti firmate da Calaio e Nocciolini La compagine Gubbina scivola così in decima piazza L'ultima utile per un posto nei play-off e sabato al Barbetti alle 14.30 Ci sarà lo scontro diretto con il Sant'Arcangelo attardato di soli 3 punti in classifica Mister Maggi non potrà contare ancora una volta sugli squalificati Rinaldi e Zanchi Si parlerà di tutto questo ma anche di molto altro questa sera tra poco alle 21 su TRG Nel talk show sportivo del lunedì fuorigioco con immagini, servizi, interviste e approfondimenti sul pianeta rosso-blu Ospiti in studio Mister Giuseppe Maggi e il direttore sportivo Eugubino Giuseppe Pannacci E dopo 12 turni ha il Bassano capace di regolare 2-1 il Padova di Sarsi in vetta da solo nel girone B di Lega Pro Alle sue spalle lo vedete proprio lo vedete tra poco Alle sue spalle il Parma seguito dal Venezia che non va oltre l'1-1 a Sant'Arcangelo Vittorie esterne tutte di misura per Pordenone, Manto, Valvino, Leffe La Feralpi Salò stende 2-0 La Maceratese, stesso risultato per il Fano nel duello salvezza con il Forlì 1-1 poi tra Suttirol e Ancona Mentre questa sera alle 20.30 posticipo di lusso tra Reggiana e San Benedettese Saliamo, andiamo in Sari e B, ancora parliamo di calcio Seconda vittoria consecutiva in trasferta per il Perugia che dopo Vicenza sbanca anche l'arena Garibaldi Superando 1-0 il Pisa di Mister Rino Gattuso Decisivo il gol di Nicastro al 17esimo del primo tempo che permette ai Biancorossi di agguantare la quarta piazza in classifica La squadra tornerà ad allenarsi domani per preparare la gara interna prevista domenica contro il Trapani dell'ex mister Cosmi Ma torniamo a Pisa Perugia per sentire le dichiarazioni dei tecnici Bucchi e Gattuso C'era grande voglia di vincere, l'equilibrio è stato rotto da una grande giocata perché abbiamo fatto un'ottimazione Un bellissimo cross di Vigara, una bellissima girata di Nicastro Sapevamo della solidità, della compattezza del Pisa Dovevamo essere bravi a spezzare la gara con un episodio a favore Siamo stati bravi a cercarcelo Da lì è diventata una partita ovviamente per noi, non dico più facile Però potevamo giocare un po' più sulle difficoltà del Pisa Quindi quando magari deve fare gioco trova qualche difficoltà in più Quando deve giocare di ripartenza è un avversario molto pericoloso Quindi bravi noi a interpretare bene la gara Contento perché per me è la vittoria più importante di questo inizio di stagione Per come è arrivata, non per l'avversario Però per me il Pisa è una squadra veramente tosta Stimo moltissimo l'allenatore Una squadra, la definisco rognosa in senso positivo Perché sei gol, era la miglior difesa Quando gioca in casa, poi con la spinta dei tifosi Un campo pesante che poteva agevolare un po' la loro struttura, la loro fisicità Era veramente una gara piena di insidie E invece siamo stati bravissimi perché abbiamo saputo soffrire Non abbiamo concesso occasioni nitide al Pisa Sono qualche mischia, un cross, credo Dopo c'è stato un batti e ribatti Però il nostro portiere fortunatamente non ha dovuto fare miracoli Quindi contento anche di questo Dovamo fare la parte che avevamo preparato Soltanto che a livello qualitativo Secondo me ci sta mancando un qualcosa Ogni volta quando arriviamo sul fondo Manca sempre qualcuno in aria Oppure quando siamo in aria L'ultimo passaggio arriva in modo sbagliato L'analisi è questa secondo me Dopo, se non ricordo male Abbiamo preso un gol su fallaterale Però, come ho detto già tante volte Non si può rimproverare nulla Perché secondo tempo l'abbiamo schiacciato Abbiamo fatto quello che dovevamo fare Però non basta tutto questo Ma lo sapevamo Sicuramente dobbiamo migliorare a livello qualitativo Perché se no si fa fatica Andiamo nel girone G di serie D Perché dopo dieci turni È finalmente la domenica del Foligno Prima vittoria dei Falchetti Che battono Muravera E lasciano l'ultima piazza alla Torres La cura Palazzi sembra funzionare E a certificare la bontà della terapia Il gol vittoria di Mancinelli Al trentottesimo del primo tempo Pari del Trestina 0-0 con l'Avezzano Perdono invece sia il Città di Castello Per 3-1 a Rieti Che il Sansepolcro Con lo stesso punteggio all'Aquila In classifica Il Trestina sale a quota 10 Fermi a 9 Città di Castello e Sansepolcro Balzino avanti del Foligno Che sale a 7 punti E allora parlando proprio dei biancoazzurri Vi faccio ascoltare Le dichiarazioni post partita Del presidente dei Falchetti Gianluca Ius Prima vittoria del Foligno La speranza è l'ultima a morire Il percorso è lungo Ma sicuramente come in settimana è stato detto Mattone sul mattone Alla fine il Foligno riuscirà A ottenere questa difesa Sì sì Questo ci crediamo Ci abbiamo creduto sempre Ci abbiamo creduto dal primo giorno Purtroppo mancava Veramente un Un tassellino piccolo Al mosaico E Credo di Credo che la società l'abbia finalmente messo Insomma ho visto una squadra compatta Che ha dominato la partita Dal primo all'ultimo minuto Ben organizzati E finalmente abbiamo dato questa soddisfazione Ai tifosi e alla città che se lo meritavano Assolutamente Abbiamo gestito la partita dal primo momento E abbiamo Insomma La partita l'abbiamo fatta noi Come era giusto che sia Come volevamo che fosse Dal primo giorno Perché dal primo giorno il Foligno ha giocato benissimo È stata una Insomma è una squadra Costruita Ben costruita Ovviamente con tutti i limiti Con tutte le cose Adesso non è che Una vittoria non ci cambia assolutamente nulla Anzi per quanto mi riguarda Cioè siamo ancora lontani E abbiamo per quanto mi riguarda Abbiamo ancora perso Moltissimi punti Quindi dobbiamo pian piano recuperarli E credo che la squadra Stia andando nel verso giusto Ed è sempre più Bastia In eccellenza regionale La capolista supera anche l'Angelana Nel derby e mantiene a più 3 Il vantaggio sulle inseguitrici Tiene il passo la Voluntas Spoleto Che batte in trasferta l'Atletico Orte Bene anche il Castel del Piano Che travolge il Torgiano per 3-0 Poker del Lama sul Fontanelle Branca Finisce poi 4-2 per la squadra di Bonura Che sale in terza piazza Quota 15 punti Mentre il Fontanelle Branca Resta a quota 10 Sconfitto 2-0 Villa Biagio A Ventinella Con la società marcianese Che respinge le dimissioni Di mister Guastalvino Esonerato invece Il tecnico della Subasio Caporali Che dopo la sconfitta interna Per 2-1 Con il Massamartana Appunto le ha consegnate Al suo posto Arriva l'ex Foligno Favilla Cade nel recupero Anche il Guado Casacastalda Petrignano 1-1 tra Sanzisto e Narnese Cambiamo sport Andiamo al Volley Super Lega È una Sir Perugia Dal doppio volto Quella che prima Inchioda la Lube Civitanova E poi però Si fa rimontare Per cedere Al tie-break Quasi 3 ore di battaglia Sul parquet C'è Marchigiano Con un match A due facce 22-25 19-25 Primi due parziali Che illudono i tifosi Perugini Ma Civitanova Vince il terzo set Per 25-23 Impattando poi Nel quarto 25-21 Avvio Shock Nel tie-break Con un 4-0 iniziale Di Civitanova Perugia prova A reagire Ma sull'8-7 Perde terreno E cede 15-10 Ai Marchigiani Terzo K.O. filato Per la SIR Il riscatto è atteso Mercoledì sera Nel turno infrasettimanale Quando i bianconeri Affronteranno I pali evangelisti Molfetta Andiamo in B. Maschile sempre di volley Successo in trasferta Per pallavolo Città di Castello Che spugna per 3-1 Il campo di Pineto Invece In B.1 femminile Perentorio Blitz Anche per la Tumperugia Capace di battere A domicilio 3-0 le Toscane Di Castelfranco Di sotto Mentre San Giustino Capitola in casa Con lo stesso punteggio Contro le Modenesi Di Montale Rangone Siamo al basket Di serie A1 Femminile Palacanestro Umbertide Torna a vincere Superando per 62 A 45 Battipaglia Al Palamorandi Grande prova Della squadra Di coccerventi Con 3 giocatrici In doppia cifra 17 per Brown 13 per Mallard E 10 per Milazzo Prossimo turno Ora per le Umbertidesi Sul parchè di Ragusa Sconfitta Cocenti Invece Al foto finish Per Sicoma Val di Ceppo Che cede 72 a 71 Senigallia Nella stessa giornata Del girone D Di B Nazionale Maschile Prossimo turno Per i Ponteggiani Al Palacastellini Contro Porto Sant'Elpidio Andiamo invece In C Silver Regionale Vittoria Vittoria Sirena Per Mertide Su Foligno Gualdo Cade Sulle parquet Della capolista Perugia E Assisi Cede Alla distanza Ad Orvieto Vittoria Pirotecnica Per 107 A 104 Invece Per Bastia Viterbo Con 46 punti Per leggere insieme I quotidiani Regionali Con la rassegna Stampa Vi ricordo Il nostro sito Di riferimento www.trgmedia.it Per seguire I streaming In tempo reale La programmazione Del canale 11 Grazie E buona serata